È una giornata grigia, triste, triste come la mia ex ragazza quando l'ho mollata, era così triste Ma comunque oggi non siamo qui per parlare delle mie ex ragazze, di quello parleremo in un video a parte Mille like e vi porto il video sulle mie ex, sono pronto Mi ha dedicato Oh my god, you fucking kids, I've got places to be Continuiamo Questo video l'ho visto un botto di tempo fa Ma tanto tempo fa, è più vecchio di internet questo cazzo di video Remy, come Remy, sit Speak Sit Good boy Ciao 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 Ciao